E' in gioco, pensate, una finale del campionato del mondo. Appione! Com'è questo mondo del cinema? Il colpo di testa è pieno di tiro! E' un'erloa di schiena! Ha scritto un copione che è una favola, una bomba. E' entrato nella storia del cinema! Volete fare gli sceneggiatori ma non sapete fare gli spettatori. E' bellissimo fare gli spettatori, eh? Appassionarsi alle persone. Sono degli assassini, non hanno ammazzato loro? Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Non mi lasciate solo questo favore. Io devo lavorare, devo fare l'amore, ho il diritto di essere felice! Te ne sei solo. Forse c'è un destino, un disegno. Tutto ci portava qui. Tutto ci portava qui. Grazie.